Il premio Nobel per la letteratura viene assegnato oggi a Samuel Beckett. Che catastrofe. Lo sai che questo sarà un viaggio dentro la tua vergogna. Non è sempre così. Da chi ha che bisogno di farti perdonare? Inizierei da mia madre. Hai letto il mio racconto? Che grande spreco. Vado a Parigi e spero di non tornare mai più. Sono malato di rimpianto. Parli di Susanne. Ciao, Sam. Signor Joyce, mi chiamo Samuel Beckett. Volevo fare la sua conoscenza. Quello che è importante non è ciò che scriviamo, ma come lo scriviamo. Dobbiamo scrivere pericolosamente, Beckett. Sono nella resistenza. Non posso lasciarlo combattere da solo. La Gestapo. Andate via. Nonostante la tragedia, nessuno poteva spegnere le stelle. L'Europa sta crollando intorno a noi, eppure tu sei felice. Ero felice perché sapevo che saremmo stati insieme. Barbara Bray, Dipartimento d'Arte Drammatica. È stato un piacere conoscerla. Non dite assurdità. Qui parli di noi. Era inevitabile. È un capolavoro. Eravamo... felici. Noi. Loro. E tu dicevi... Prima danza. Poi pensa. Prima danza. Prima danza. Prima danza. Prima danza. Prima danza.